Sì, adesso questo inizio del campionato è stato di sicuro positivo, certo non possiamo neanche esaltarci perché alla fine sono state poche partite e siamo ancora appunto all'inizio dove la preparazione è ancora un po' altalenante, nel senso che non stiamo lavorando ma stiamo lavorando però i meccanismi sono ancora da oliare, però insomma stiamo facendo un bel lavoro. Sì, finalmente si incomincia l'Eurolega, è un campionato che nelle ultime stagioni ci sta piacendo a noi tanto e vedo anche al pubblico, quindi cercheremo di affrontarlo con la maggiore determinazione possibile, certo le partite in casa sono sempre più importanti perché comunque in casa bisogna assolutamente portare punti, quindi cercheremo di lottare su ogni pallone per 40 minuti fin da giovedì e in tutte le partite dell'Eurolega. Si poteva pensare che la squadra polacca che incontriamo settimana prossima poteva essere tra virgolette più debole invece hanno preso le ucianca in questi ultimi giorni, quindi forse la squadra, chiamiamola più debole ma non è proprio esatto nell'Eurolega parlare di deboli o forti, potrebbe essere Bernò ma solo perché ha poche giocatrici conosciute, sono tutte giovani, però ripeto non possiamo guardare all'età, alla nazionalità delle giocatrici ma ogni partita deve essere importante, deve essere giocata con gli occhi da tigre da parte di tutte noi.